Un vetraio di 39 anni di Naro in provincia di Agrigento, Michele di Gerlando, è morto dopo il crollo del tetto di un magazzino in via Gran Priorato nel centro storico. L'uomo è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I medici di guardia, valutate le gravi condizioni, hanno subito allertato la centrale operativa del 118, che da Caltanissetta avrebbe dovuto inviare un elisoccorso. Purtroppo non c'è stato il tempo perché l'uomo è deceduto. Il 39enne era sposato e padre di due figli. Sul luogo, intanto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione, il tragico incidente si sarebbe verificato mentre di Gerlando stava svolgendo dei lavori all'interno della costruzione. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.